Domani il sì tra Nunzio Liso e Nicola Giuliani. La prima unione civile tra due pugliesi sarà formalizzata con una cerimonia che si svolgerà domattina alle 10.30 nello sciale della villa comunale di Trani. Quella di Nunzio e Nicola è la seconda in Puglia, ma la prima, venuta a Cagnano Varano, ha regolarizzato la posizione di due genovesi trapiantati. Guardando alla cerimonia di domani riteniamo non sia esatto però parlare di coronamento del loro sogno d'amore. Nunzio e Nicola quel sogno lo hanno già realizzato quando sfidando pregiudizi e omofobia si misero insieme dando vita ad una solida unione che dura da circa 15 anni e che li ha visti accomunati oltre che dal legame affettivo, da interessi, passioni, condivisioni e battaglie sia politiche che per i diritti civili, in particolare contro le discriminazioni che subiscono quotidianamente gli omosessuali. Nunzio Liso, imprenditore e attualmente presidente provinciale del Partito Democratico, è stato in passato consigliere comunale e assessore ad Andrea. Nicola Giuliani è invece un apprezzato ricercatore e operatore culturale di Biceglie ed è discendente del famoso musicista Mauro Giuliani, di cui cura la Casa Museo. Nunzio Liso decise di fare il suo coming out durante il Gay Pride che si svolse a Bari e ha raccontato la sua storia in un brillante libro autobiografico intitolato Sono Gaio. Domani Nunzio e Nicola avranno quindi il giusto riconoscimento giuridico di ciò che i sentimenti hanno sancito da tempo. A unirli il sindaco di Trani, Amedeo Botaro, testimoni Sabino Fortunato e Stefania Silvestris. Va detto che Trani è stato il primo capoluogo di provincia pugliesi ad adeguarsi alla nuova normativa. Per questo Nunzio Liso ha voluto ringraziare la dirigente Caterina Navac e il funzionario Giuseppe Lorusso.